Bisogna rinnovare il contratto con la passione della Roma, va bene? È giusto. Incredibile, in 7 minuti, in 7 minuti da 3 a 1 per noi a 4 a 3 per loro. Hai mai pensato seriamente di lasciare il calcio e la Roma? No, non ci ho mai pensato. Si può? Ciao Samu. Ciao. Come stai? Bene. Allora, senti, mi hanno detto che qui c'è da rinnovare un contratto. Sì. Lo rinnoviamo, quanto? Non l'abbiamo. Dai, allora, scriviamo tutto qui. Samu L. Ho deciso di rinnovare il contratto. E comunque ho un sogno. Dillo a me. Ah, vita. Samu L. Va bene. Ok, così siamo tutti più tranquilli. Nel calcio, nella vita, ci può stare che si hanno dei momenti un pochino più difficili, complicati, ma è proprio da quelli che si tira fuori qualcosa in più. Quindi si tifa di più, si ama di più, si lotta di più. Allora, facciamoci, diamo la mano per rinnovare il contratto? Allora, a me la penso che... Guarda che c'è scritto. Samu L. Devo pure cambiare il numero, perché me l'hai preso tu adesso. Allora, questo lo portiamo al direttore, a Tiago Pinto, facciamo la federazione, facciamo tutto adesso. Andrei! Andrei. Allora. Andrei. Andrei! Grazie a tutti